Sì, il rischio credo che sia esattamente quello che Google Bard ci dice che ritorna però a quello che diceva prima l'Avvocato Cudri quando parlava della fallibilità. La fallibilità noi ce l'abbiamo sull'intelligenza artificiale però c'è su tutto quello che riguarda il mondo del trattamento dati. Noi sull'intelligenza artificiale sappiamo che dall'anno scorso in ogni seminario parliamo di intelligenza artificiale perché probabilmente la curiosità era nata dal fatto che il garante per il trattamento dei dati personali nel nostro paese ha fatto un provvedimento nei confronti di chat GPT di OpenAI che è la casa madre del chat GPT per un problema di trasparenza. Prima l'Avvocato Sorano ci diceva insieme all'Avvocato Santinonna attenzione perché gli avvocati sono un po' i depositari di quella che è l'etica però siamo anche un po' i cani da guardia per quelli che sono i diritti dei cittadini perché il cittadino dall'altra parte non sempre è consapevole e non sempre vuole essere consapevole ovvero le informative ci sono sappiamo che cosa magari ci possono dire come possono essere trattati i nostri dati o quantomeno che cosa ci dicono e come ci dicono che verranno trattati però molti lo usano non lo leggono non fanno attenzione troppe informazioni questo è un po' un problema che noi abbiamo anche su tutti gli strumenti di tracciamento per quello che per esempio riguarda le informative sui cookie il garante nel nostro paese ci dice non farla vedere ogni volta che io entro sul tuo sito altrimenti le persone non la leggono più oppure vedono quello che è un diritto come se fosse un orpello come se fosse un qualche cosa di più di ulteriore che a me non interessa più. non la voglio più vedere le informative tutte le volte mi bloccano io volevo soltanto usare il BARD volevo usare il chat GPT volevo leggere il giornale online e non volevo avere tutte le informazioni che ogni volta mi pongono anche davanti a un dilemma. quindi il problema c'è c'è sicuramente credo che uno dei problemi però sia non solo la fallibilità e quindi il rischio che c'è non solo nel momento in cui il dato viene trattato online ma in questo caso anche sulle modalità gli stessi sviluppatori ci dicono dove conserviamo i dati per quanto tempo l'intelligenza artificiale va a conservare il dato e dove viene conservato questo dato quindi nel momento in cui noi andiamo a usare strumenti di questo tipo sappiamo che non sappiamo dove vanno a finire. questa è l'unica certezza che abbiamo oggi non sappiamo come possiamo cancellarli non sappiamo come possiamo eliminarli non so come posso fare disimparare quell'informazione sbagliata all'intelligenza artificiale e queste sono problematiche che anche lato privacy ci devono preoccupare. quando noi parliamo nei vari convegni con avvocati chiediamo la domanda normale è quella perderemo il posto di lavoro chat gpt ci porta via il lavoro beh la prima domanda che noi facciamo dall'altra parte quante volte chi di voi l'ha utilizzato un sistema qualsiasi di intelligenza artificiale ora le mani alzate cominciano a essere un po' più rispetto al passato. in passato c'era tanta paura e nessuno che usava conosceva vedeva o aveva letto l'informativa sul trattamento dei dati di una intelligenza artificiale qualsiasi che fosse il bard che fosse il copilot che fosse qualsiasi intelligenza artificiale quindi chi lo usava tutta il più faceva qualche prova magari inseriva dei nominativi dei dati delle informazioni e non sapeva dove venivano conservate non sapeva come venivano gestite non sapeva come posso riprendere quel dato e quell'informazione che magari è stato salvato da un'altra parte rispetto all'unione europea nemmeno negli stati uniti ma magari in paesi dove non c'è nemmeno un giudizio di adeguatezza o una garanzia su un trattamento sicuro per cui noi andavamo a inserire dati e informazioni in modo insomma abbastanza pericoloso per cui lato privacy sicuramente ci sono dei dubbi l'altro dubbio che a me viene nel momento in cui chat gpt torna anche nel nostro paese per cui non c'era più bisogno di vari VPN per essere connessi si poteva fare tranquillamente perché ci diceva la trasparenza oggi che è uno dei principi cardine del GDPR viene rispettata noi diamo nella nostra informativa la possibilità a tutti i nostri utenti a tutti i soggetti che sono collegati con noi ma anche a quelli che non sono collegati di esercitare diritti la domanda è ma se non sono collegato perché devo esercitare i miei diritti con uno strumento che i miei dati nemmeno dovrebbero averli se tu mi stai tutelando è un po' come un'accusazione un petita perché mi stai dicendo che io posso difendere ed esercitare i miei diritti quando tu i dati non dovresti neanche averli sapendo e partendo da un presupposto che molte delle intelligenze artificiali hanno fatto un data scraping iniziale quindi hanno preso e raccolto dati e informazioni in modo insomma un po' leggero non tutte ovviamente però un pochino leggero il problema anche in questo caso nasce sempre secondo me dal presupposto di come nascono queste norme a livello europeo noi abbiamo norme sul GDPR abbiamo norme oggi che arriveranno sull'intelligenza artificiale però sono strumenti che vengono sviluppati altrove quindi dove viene sviluppata l'intelligenza artificiale? non vorrei dire neanche Stati Uniti in California in un paese per cui i grandi paesi sono soltanto uno e sono paesi che sono da un'altra parte con un principio di morale diversa con un principio di etica diversa quindi anche qui quando andiamo a parlare di etica quale etica? la nostra è quella che ci può essere in un paese che ha un principio completamente diverso per quello che riguarda i diritti gli esercizi per quello che riguarda la privacy per quello che riguarda lo sviluppo economico sono principi e paesi che hanno norme diverse che hanno una cultura diversa rispetto alla nostra ci sono poi degli sviluppi secondari sia nel trattamento dati sia nell'intelligenza artificiale anche nel nostro paese però sono di solito attrezzi attrezzature software e usano quelli che sono stati sviluppati altrove quindi parto da quel paese e riutilizzo il chat GPT lo sviluppo è stato fatto là noi lo vogliamo normale noi vogliamo dire se non rispetti il nostro principio ti applico le sanzioni però appunto quale principio? Il principio e l'etica allora a questo punto devono essere quelle dell'Unione Europea nei confronti di paesi e di società che sviluppano in altri luoghi del mondo perdonami Marco mi hai dato spunto per una domanda velocissima ma esiste negli Stati Uniti perché stiamo parlando degli Stati Uniti una normazione simile all'A-Act o ancora no? ci sono delle norme simili ci sono in questo caso per quello che riguarda ad esempio la privacy un digital framework quindi un passaggio di adeguatezza su base volontaria di alcune aziende lo fanno perché lo sviluppo ovviamente anche di queste aziende non può prescindere da uno sviluppo nell'Unione Europea quindi al di là della norma che ci può essere in quel paese al di là della richiesta che è stata fatta già dagli sviluppatori del chat GPT dove dicevano noi non sappiamo dove e quali sono i nostri algoritmi perché l'algoritmo non funziona più come una volta per cui io ti dico che cosa fare nel caso in cui dovesse accadere un qualche cosa ma semplicemente si sviluppa con dei sistemi anche di tipo linguistico con un sistema che è diverso neurale rispetto a quello che c'era in passato e quindi ci dicono noi non sappiamo più esattamente come funzionano gli algoritmi alcune grandi società hanno detto al corte europea non conosco lo sviluppo e il funzionamento del nostro algoritmo quindi non posso cancellare dalla nostra base dati un'informazione perché non so nemmeno come funziona e qui ci rendiamo conto che c'è un problema abbastanza grave ecco perché lei acta ha previsto la regola del bottone rosso esatto il problema del bottone rosso torna anche su quello che diceva prima l'avvocato Marco Gabriele quando parlava anche di guida autonoma la guida autonoma che oggi è uno strumento abbastanza presente perché tutti pensano sta per arrivare sta per arrivare i sistemi di guida autonoma delle vetture sono cinque livelli i primi tre livelli ce li abbiamo già il parcheggio, assistito, il sistema di frenata, il sistema di stanchezza sono il quarto e il quinto che devono ancora arrivare il quarto probabilmente arriverà e il quinto lo vedranno i nostri figli e i nostri nipoti il quarto livello arriverà probabilmente sulle autostrade non sulle strade ordinarie in quel caso ci sarà la possibilità di dire il mezzo che non ha questo sistema non viaggia più è un po' il solito principio che abbiamo avuto nel nostro paese quando le autostrade venivano sviluppate il carro non ci passa la macchina ci può andare la bicicletta in autostrada non ci può andare quando noi andiamo a vedere i primi sistemi perché qui si parla di che cosa succederà quando ci saranno incidenti ci sono già stati incidenti con macchine a guida autonoma il primo è stato nel 2018 era la Herzberg che era una homeless che girava in una strada a quattro corsie dove non poteva andare con una bicicletta lei girava con la bicicletta era una homeless quindi aveva sulla sua bicicletta sacchi, sacchetti e ogni tipo di oggetto la macchina che era una Uber a guida autonoma non l'ha riconosciuta come pedone come essere umano che attraversava i feedback sono stati tantissimi alla fine era schiacciata la persona è morta non si sa chi è responsabile perché Uber ha pagato per evitare il giudizio il conducente è stato in questo caso indagato per omicidio colposo il capo della polizia diceva no, la colpa è della Herzberg perché non doveva andare in quella strada perché quella strada non era una strada per ciclisti o per pedoni quindi era lei che ha fatto una condotta sbagliata in questo caso anche lì il problema è stato un po' quello che possiamo e potremmo ipotizzare anche in altre parti del mondo che c'erano dei rischi lo sapevano tutti nel momento in cui hanno iniziato a voler fare lo sviluppo portava denaro, soldi, investimenti il primo paese, l'Arizona ha detto venite da noi qui siete i benvenuti l'incidente è stato fatto a tempo in Arizona il giorno dopo hanno chiuso per cui il governatore ha detto guacchi e una guida autonoma su queste strade non potranno più arrivare e la logica dovrebbe dire nessuno lo prende più in Ohio il giorno dopo hanno detto venite da noi non era Schwarzenegger non era Schwarzenegger in quel caso per cui i rischi ci sono ce ne sono di tanti tipi ci sono ovviamente anche dei vantaggi l'intelligenza artificiale porta indubbiamente può portare anche ad alcuni vantaggi quando noi pensiamo a chi oggi vuole essere giudicato da una macchina non da un essere umano in Italia forse nessuno prima dottor Maruotti ci diceva ci ha messo mezz'ora per decidere che cosa fare in quel caso non so ora dottor Maruotti se in quel caso ha archiviato perché se ci ha messo mezz'ora io penso che sia arrivata ad un'archiviazione non voglio sapere la persona facendo di sì perché penso che ci abbia messo mezz'ora perché se avesse fatto un procedimento di altro tipo probabilmente non ci avrebbe messo mezz'ora ma ci avrebbe messo molto di più e questo è quello che noi ci aspettiamo dei nostri magistrati dei nostri giudici cioè mi aspetto se tu devi togliermi la libertà e lo devi fare perché oggettivamente deve essere fatto stanotte non dormi stanotte devi avere quella sensazione di sono un essere umano sto levando la libertà a un altro e non ci metto mezz'ora in quel caso ci metto molto di più perché non è un senso di colpa ma è un'empatia che comunque c'è con l'essere umano perché negli Stati Uniti questo non accade perché quando noi andiamo a pensare ci sono dei bias cognitivi ci sono degli errori nel sistema ci sono sicuramente è difficilissimo oggi con questi sistemi riuscire a togliere quel tipo di bias cognitivo forse è più difficile togliere un pregiudizio da un essere umano il giudice il razzista il responsabile delle risorse umane è misogino è difficile fargli cambiare opinione quando a 50 anni 60 anni è vissuto in una certa dimensione in una certa cultura con certe idee alla macchina forse è molto difficile però potrei anche arrivare con questo strumento non è possibile dall'altro lato però il passaggio è sempre risposta agli avvocati quando ci dicono ma perdono il posto di lavoro chi vuole essere assistito da una macchina io posso essere magari giudicato da una macchina ma nessuno vuole essere assistito da una macchina ma tu da che si fa sempre l'avvocato dopo la mamma è l'unico che ti difende anche quando sa che hai torto per cui voglio essere dipenduto da un essere umano che magari mi trova quell'elemento in più e non da una macchina che fa un giudizio molto asettico e che veramente non ha nessun tipo di empatia per cui secondo me il rischio non c'è il rischio ci può essere o le colleghe aiga non ci sono per il giovane avvocato che oggi si affaccia a uno studio legale che non ha nessuna esperienza di questo tipo quindi se io oggi dovessi selezionare una persona ad entrare nello studio uno mi dice io pari curriculum io sono esperto di nuove tecnologie sono esperto per quello che riguarda l'intelligenza artificiale per me è un passaggio sicuramente superiore quindi il consiglio lo diamo ai giovani di Elsa lo diamo ai giovani di Aiga studiamola usiamoli questi strumenti governiamoli non dobbiamo essere succubi dobbiamo conoscerli sapere come funzionano perché oggi è veramente un passaggio in più una persona dopo una certità può conoscere può studiare può fare il giovane sicuramente ha una marcia in più anche nella comprensione dicevi esperto in privacy no sicuramente ti dico non sono esperto in intelligenza artificiale quando mi trovo è capitato di trovare la locandina esperto in intelligenza artificiale dico quale intelligenza artificiale quella di tre mesi fa è superata la conosco ma non esiste più quella che ho fatto tre mesi fa facevo le prof e non c'è più nel frattempo è completamente cambiata e infatti Marco andiamo a chiudere perché c'è anche l'ipervento importante di Luigi Viola una mia perplessità sulle E-Act sono le posticipazioni di alcune applicazioni cioè è diviso in settori alcuni settori entrano in vigore fra sei mesi altri fra due anni ma la tecnologia l'informatizzazione le novità in tema di intelligenza artificiale sono più rapide di questi temi il rischio c'è sicuramente così come c'è stato per il GDPR che per molto tempo ha tenuto banco ancora e oggi comincia a avere delle grosse difficoltà nella sua parte applicativa infatti grazie